Musica Il già tempo di andare a collegarci con Margherita Rosciano che ci aspetta nella chiesa di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta che come vi abbiamo detto è interessata a un progetto di recupero e valorizzazione guidato da un gruppo, da un consorzio di privati. È vero Margherita? Sì, è vero. Buongiorno. Noi ci troviamo in pieno centro di Napoli tra via Tribunali e via Atri. Questa è la piazzetta della Pietrasanta dalla Basilica che vedete alle mie spalle. Una zona adottata dagli imprenditori all'esterno. Noi qui ci troviamo all'esterno e dall'interno. Detta della Pietrasanta perché si diceva che ci fosse una pietra votiva che dava le indulgenze. E come vedete dal cartello, aria deracchettizzata perché gli imprenditori hanno lottato anche per questo. Noi tra poco parleremo delle iniziative dell'associazione Pietrasanta con i protagonisti. La linea allo studio. Adesso è arrivato il momento di tornare a collegarci con Margherita Rosciano che ci aspetta alla chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta per farci scoprire i suoi tesori. Margherita? Sì, siamo entrati in questo splendido monumento come appunto potete vedere. Ci sono con noi gli amici componenti dell'associazione Pietrasanta. Gli imprenditori come Raffaele Iovine che è il presidente di questa associazione, insomma grazie al cui lavoro la zona non solo è deracchettizzata ma sta diventando un vero e proprio polo culturale. Com'è nata questa associazione? L'associazione è nata qualche mese fa, ha avuto incomodato d'uso dal cardinale questo splendido monumento, prende il nome ovviamente dalla Pietrasanta, ed è costituita da un gruppo di imprenditori, di professionisti, di studiosi, di normali cittadini, anche di campioni dello sport. Nasce col proposito dichiarato di realizzare due cose fondamentali. Da un lato prendersi ovviamente cura di questo monumento, tutelarlo attraverso opere di restauro, di manutenzione. Noi speriamo che quanto prima i cittadini possano riammirare le grandi tele del Farelli che, come dire, facevano parte di questo complesso, gli altari con le balaustre. Dall'altro però intendiamo valorizzare il bene, anche perché riteniamo che valorizzando il bene lo si tutela anche meglio. Qui vogliamo creare una grande sala polifunzionale, un auditorium per ospitare grandi eventi culturali, di grande profilo. Penso a convegni scientifici che tra l'altro già stiamo ospitando in modo particolare dell'università, ma anche grandi concerti, grandi mostre. E poi, quello che è la grande novità della nostra idea imprenditoriale, l'accesso al sottosuolo per una magnifica, per un grande itinerario nella Napoli del sottosuolo, superando cavità, cisterne e ricoveri. Ecco, abbiamo con noi Maria Elva Torino, che è la coordinatrice scientifica dell'associazione. Qualche cenno storico. La chiesa nasce nel 533 ad opera del ventunesimo vescovo di Napoli ed è stata addirittura consacrata da un papa, Papa Giovanni II. Subì poi una serie di dissesti a causa dei terremoti che colpirono Napoli ed è stata riedificata dai Caracciolini, ordine fondato da San Francesco Caracciolo, patrono di Napoli, nel 1657 e l'opera è di Cosimo Fanzago. È detta Santa Maria Maggiore perché è stata innanzitutto la prima chiesa consacrata alla Vergine e è detta Maggiore perché è una delle chiese più importanti e più grandi di Napoli. Ancora oggi la cupola è la più alta della città di Napoli. Ed è detta Pietra Santa perché i Caracciolini trovarono la pietra di consacrazione che posero in un'edicola viaria al di fuori della chiesa. Questi sono i scenni storici, però voi già avete cominciato in un certo senso un percorso più moderno per la chiesa. Assolutamente, la chiesa nasce con una vocazione musicale, si tengono concerti già sia di musica sacra che di musica classica che polifonica e si può dire che praticamente i luoghi hanno memoria. Qui si tenevano i concorsi per gli edomadari che sono i prelati che cantano nei cori, i concorsi di canto gregoriano. Poi è stata già sede del convegno sui 400 anni dalla morte di San Francesco Caracciolo ed è oggetto anche di tesi universitarie e sarà anche sede di una serie di convegni scientifici. Ma noi abbiamo sentito già prima che c'è un mondo anche sotto naturalmente ai nostri piedi come in molti luoghi di Napoli e ce ne parla lo speleologo Luca Cuttitta che sta seguendo questi lavori. Cosa abbiamo sotto i piedi? Esattamente quello che hai detto, cioè un mondo è più precisamente quel mondo che ha reso grande Napoli, che l'ha resa una città capitale mondiale per cui abbiamo le prime tracce di utilizzo del sottosuolo al tempo degli Artemisi quindi ben prima dei Romani, l'utilizzo delle cisterne prima pluviali poi collegate all'antico Acquedotto, i ricoveri della seconda guerra mondiale e tutta una serie quindi di tracce e di rilevanze per chi le sa leggere molto molto importanti per la cultura napoletana. Per cui il vostro obiettivo è creare un percorso sotterraneo? Assolutamente, l'innovazione è proprio quella non solo di creare un percorso ma di renderlo quanto più fruibile possibile da chiunque, di qualunque età. E noi concludiamo parlando con Vincenzo De Notares che è un altro componente dell'Associazione Pietrasanta abbiamo sentito un po' la storia, naturalmente quello che sarà il futuro ma in un certo senso voi ci volete salutare con un augurio che parte da Piazzetta Pietrasanta. Sì, noi crediamo fortemente che questa iniziativa della Pietrasanta possa rappresentare un momento di discontinuità, diciamo una svolta per la città di Napoli una città che sotto il profilo artistico, storico, culturale non è seconda a nessun'altra città al mondo. È una ricchezza, un tesoro che oggi in gran parte è nascosto, degradato e non fruibile per gli stessi cittadini. Quindi il nostro auspicio è creare un modello replicabile che possa restituire a Napoli la dignità di capitale, di arte e cultura che le compete da sempre. E allora sperando che questo modello si replichi dappertutto ridiamo la linea allo studio. Grazie.